Questa mattina il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione di circa 80 studenti provenienti della città di Memingen. E' ormai da tanti anni che si è estaurato questo rapporto di gemellaggio tra Teramo e la cittadina tedesca. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino che ha ricordato come questi scami interculturali sono vere occasioni di conoscenza e crescita e momenti straordinari di sviluppo per l'intera cittadinanza teramana. Sì, stamattina ricevo questa delegazione, è una cosa bella, positiva, è una cosa che si ripete negli anni, d'altra parte questo gemellaggio ormai va avanti da oltre 25 anni, insomma ecco, questo è anche uno degli aspetti importanti dei gemellaggi, quello che anche a livello di scuole ci sia un interscambio culturale a 360 gradi e quindi stamattina ricevo questi ragazzi e sono davvero contento ed è una cosa bella nell'ambito, ripeto, di questi discorsi che si aprono con paesi di altre nazioni e su questo noi daremo anche da questo punto di vista una bella accelerazione. Io sono stato a Memmingen appena eletto e questa città ci tiene in alta considerazione, è veramente un bel rapporto che negli anni chi c'è stato prima di me ha saputo consolidare e quindi stiamo sviluppando altri discorsi, abbiamo altri gemellaggi, siamo tornati da qualche giorno da Cipro, da Strovolos, che è un'altra città con la quale andremo a determinare un gemellaggio. Gli scambi non soltanto legati a degli aspetti formali ma a 360 gradi credo che sono sempre utili alla nostra cittadinanza, noi cerchiamo di prendere le cose belle, positive, diciamo così, di altri paesi e cerchiamo di dare qualcosa del nostro. Per esempio con Strovolos abbiamo in mente uno scambio culturale importante attraverso delle mostre, insomma sono cose positive che svilupperemo nei prossimi mesi.